eccoci qua in un posto fantastico del mio paese il lago di canterno per fare il test di comparazioni tra dji e osmo pocket e sj cam 8 grazie a tutti 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 allora ragazzi abbiamo fatto una prova di slow motion di time lapse grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti